Ripristinare e proteggere il decking ed il legno in esterno è facile. Bastano tre semplici passaggi per avere una superficie perfetta. Rimuovi lo sporco annidato e la vecchia finitura con Reboot. Asporta la patina grigia con Grey Free. E, infine, proteggi con Oil for Sun, l'olio impregnante per legno in esterno. Adesso vediamo come si fa. Step 1. Pulizia. Versa Reboot in un contenitore. Ti consigliamo di agitarlo prima dell'utilizzo. Applica il detergente concentrato sulla superficie con un pennello. Lascialo agire per 5 o 10 minuti. Grazie al suo elevato potere pulente, basta il tempo di un caffè per avere un risultato perfetto. Strofina accuratamente con una spazzola per rimuovere lo sporco e la vecchia finitura. Una volta completata la fase di pulizia, risciacqua con acqua pulita. Se necessario, ripeti l'operazione, altrimenti attendi che il legno sia completamente asciutto. Step 2. Rimozione della patina grigia. Utilizza Grape Free per ripristinare l'aspetto originale del legno, nel caso in cui risulti ingrigito a causa dell'invecchiamento e dei raggi del sole. Versa il prodotto in un contenitore e applicalo sul legno. La sua consistenza gelatinosa lo rende ideale anche per applicazioni in verticale. Lascia agire per 10 o 15 minuti. Risciacqua con acqua pulita e attendi che la superficie sia completamente asciutta. Step 3. Applicazione del protettivo Oil for Sun. Mescola il prodotto nel barattolo e stendilo usando un pennello o un rullo. L'olio penetrerà nella fibra del legno proteggendolo a lungo dai raggi del sole e dalle intemperie. Si raccomanda di non eccedere nelle quantità. Dopo 18 o 24 ore, è possibile applicare una seconda mano di prodotto. Una volta asciutto, puoi goderti tutto il sole che vuoi. Dopo 18 o 24 ore, è possibile applicare una seconda mano di prodotto.